Non mai niente ci fanno sapere, noi ci puzzammo e fanno, bussanno tutto quanto, e invece ci aiutano, ci abuffano i caffè in una tazzolele. L'associazione come si chiama? Per me i briganti di Irpinia, vedo la signora. Buongiorno Irpinia, buongiorno ai telespettatori di Telenostra e Prima TV, ben ritrovati con Chiacchiere e Caffè, e anche oggi pronti a ripartire con il sorriso tra informazione e rivoluzione. Il tema di oggi, perché cento anni fa in Russia il partito bolcevico con la presa del palazzo d'inverno poneva fine all'impero zarista, ma voi per che cosa sareste disposti a compiere o a lottare per una rivoluzione, meglio se pacifica? Ne parleremo anche con i nostri ospiti, tanti che ci hanno già raggiunto, altri ci raggiungeranno nel corso della trasmissione. Un saluto a tutti i paesi di Irpinia, come sempre facciamo, chi vogliamo nominare oggi al volo? Calitri, Montefalcione, ancora Antonella, buongiorno, la nostra live coach. Buongiorno a tutti, io saluterei Mano Galzati. Ok, buongiorno, tra poco con Antonella parleremo di tanti temi perché quando c'è un ostacolo da superare, non sappiamo come fare, è bene rivolgersi al nostro live coach che ci insegnerà a focalizzarci sull'obiettivo, ad aggirare gli ostacoli se possibile e anche a fare una rivoluzione. Assolutamente, è importantissimo pensare di poter cambiare la propria vita perché nel momento in cui lo pensiamo possiamo farlo. Una comunicazione di servizio se riusciamo ad abbassare l'audio per il ritorno che abbiamo qui nello studio, anche questa rivoluzione piccola dobbiamo compierla per poter procedere questa mattina. Antonio D'Ambrosio, qui di rivoluzione parliamo con un brigante. Certo, il capo dei rivoluzionari, io sono anche il delegato provinciale di insorgenza civile, quindi è tutto dire. Quindi saluto, però voglio salutare anche io due comuni, Montefredini, il mio, e Torrioni, per cui dopo vi spiegherò qual è il motivo. Va bene, la rivoluzione ambientale, quella di cui parleremo poi con Tonino e con Anna Candelmo, lotta per la vita, ben trovata anche a te, buongiorno. Buongiorno a tutti, per quanto riguarda la rivoluzione penso che sia un cambiamento, un cambiamento di mentalità e quindi la nostra associazione è sempre lottata per questo, abbiamo fatto tanti convegni, quindi sensibilizzato l'opinione delle persone per il cambiamento perché un Neiti con la voglia di cambiare le cose si può arrivare alla risoluzione di qualsiasi problema. L'abbiamo visto noi con l'Isochimica, sono anni che stiamo lottando, stiamo lottando tutti insieme e così siamo arrivati alla bonifica. Noi invece stiamo arrivando al risultato, grazie Anna, tra poco continueremo a parlare, grazie dell'assistenza tecnica, grazie ad Antonio, e ha rivoluzionato il modo di fare previsioni non solo in provincia di Avellino, ben oltre il nostro Meteo Pep, ben trovato. Buongiorno, buongiorno ai miei fans, buongiorno a tutti. Un comune che vuoi salutare anche tu? Un comune saluto Cristina, saluto tutti i miei fans. Di dove sono, di quali comuni? Avellino, Avellino, qualcuno di altri porti, insomma un po' da... Tra poco andremo a vedere le previsioni, tu che rivoluzione vorresti o faresti? Io farei la rivoluzione di cambiare gli orari sopra le filoviglie. Ah ecco, questa è una rivoluzione bella da fare ad Avellino. Perché parecchie gente non prendono l'orario, passa sempre prima. Allora impegniamoci anche per questa rivoluzione. Grazie Peppino, arriveremo tra poco con le previsioni. Torniamo nel nostro angolo qui dal Madai, un locale accogliente. Ci hanno ben accolto col sorriso, il sorriso che cerchiamo poi di trasmettere alle persone che in questo momento si stanno svegliando. Andiamo a vedere quali sono le notizie di oggi. Voi vi immaginate una rivoluzione, qualche notizia rivoluzionaria. Andremo a vedere tra pochissimo. Il nostro Peppino ci aiuta subito. Allora Peppino, andiamo a vedere la rivoluzione che il Quotidiano del Sud oggi porta in prima pagina. Diplomi falsi perquisita la CISL. Qui ci sarebbe bisogno della rivoluzione del merito magari. Ecco, in una società in cui il merito non sempre ti porta ad andare avanti o viene premiato. Antonella, un commento al volo. Antonella, oltre ad essere life coach e anche giornalista, collega del mattino, lo ricordo, per chi non lo sapesse, il merito? Saremmo sicuramente meglio tutti. Però purtroppo ci sono troppe persone che non rinunciano alle scorciatoie. Fortunatamente qualche volta si vengono scoperti. Ancora, con il mattino di Avellino proseguiamo questa rassegna stampa sui Quotidiani nazionali. Non si parla d'altro che delle elezioni in Sicilia. Magari tra pochissimo tenterei di fare anche un elenco di candidati alla carica di sindaco di Avellino perché anche qui si voterà il prossimo anno. Metteremo insieme un po' di persone. Vediamo se troviamo qualcuno capace di fare una rivoluzione o comunque di portare avanti un progetto. Montoro, la paura non passa mai, questa l'apertura del quotidiano il mattino perché altra notte di tensione per il maltempo, con fango e detriti, risolta l'emergenza ambientale. Disagio e frane anche a Forino, allagamenti ad Ariano, a Piano Dardine, crolla un pino a Torrette, tir si ribalta sulla 16. La rivoluzione ambientale qui invece ci porta a dire che nulla si muove e quando piove... Peppino, come sono le previsioni per i prossimi giorni? Anticipiamo giusto qualcosina. Io anticipo giusto qualcosa. Per questa settimana qua ancora un maltempo. Poi tra martedì e mercoledì dovrebbe essere buono. Quindi il maltempo ancora in arrivo, dobbiamo temere anche il peggio, speriamo di no. Poi andiamo nel dettaglio. Anna? Per quanto riguarda il maltempo, io come associazione, quindi lotta per la vita ambientalista, voglio fare un appello ai sindaci dei vari territori di tutta Avellino e provincia soprattutto, che mettessero in sicurezza i territori, non arriviamo sempre, come ha detto lui, non arriviamo alle tragedie. Quindi mettiamo prima in sicurezza il territorio, prima che ci siano delle... Allora, una pala nelle cunette ci deve andare in questi giorni, in maniera tale da spalare, di rendere fruibile il deflusso delle acque, ci arriviamo tra poco. L'altra notizia del giorno è l'Avellino. L'Avellino calcio che ieri sera ha giocato. Pari e rabbia, l'arbitro sbaglia tutto. Si parla sui quotidiani di Schippo e i danni della squadra bianco-verde, che non è riuscita a portare a casa i tre punti che forse meritava. In qualche modo la squadra ricomincia a piccoli passi a muovere la classifica. Grazie Peppino. Poi vediamo gli altri quotidiani. La rivoluzione del coaching. Antonella, se ci sono dei problemi, come li possiamo superare o comunque come li dobbiamo affrontare? Nell'ottica del coaching intanto cominciamo a non parlare di problemi, ma di questioni da risolvere. Perché il linguaggio è molto importante. Il linguaggio con cui una persona parla a un'altra, ma anche il linguaggio con cui noi parliamo a noi stessi. Già cambiare l'uso delle parole può aiutare a ridimensionare o a vedere, ad avere un nuovo punto di vista. In particolare, una cosa che sarebbe molto utile da fare è usare la mente a nostro vantaggio. Già usare la mente non è per molti, ma non per tutti, qualcuno direbbe. La mente funziona automaticamente, quindi non si può fare a meno di usarla. Possiamo però cercare di usarla in maniera consapevole. Ci dai qualche consiglio di uso consapevole del nostro intelletto? Oppure un metodo, una pratica che possiamo utilizzare per raggiungere un obiettivo? Allora, sicuramente usare l'immaginazione in maniera mirata è una cosa che ci può aiutare. Perché, come dicevi tu, la mente lavora a prescindere e spesso noi la usiamo però contro di noi. Immaginando, per esempio, riguarda un obiettivo che vogliamo raggiungere, tutto quello che può andare male. Cioè tu ci stai dicendo di immaginare, quindi anche di fantasticare. Non è una perdita di tempo questa? No, 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 questa è una cosa che per esempio fanno i bambini, anzi facevano perché ormai con tutti questi tablet e aggeggi che gli danno, il tempo di stare a guardare fuori dalla finestra immaginando le cose magari diminuisce. Ma comunque usare l'immaginazione per, tra virgolette, creare cose che non esistono. Cioè immaginare, per esempio, come raggiungeremo un obiettivo che ci interessa e quindi proprio visualizzarlo nei dettagli, vedere quello che vedremo, sentire quello che sentiremo, le voci che ci parlano e magari si complimentano per un successo. Ecco, se volete fare la rivoluzione cominciate ad immaginare come verrebbe, come si potrebbe fare, ma proprio a visualizzarla. Esatto, a visualizzarla. Per esempio, questa è una cosa che fanno gli sportivi. Gli sportivi, e là insomma abbiamo i coach specializzati nello sport che sono maestri in questo, visualizzano centinaia di volte magari il successo di un gesto atletico. E in questo modo si preparano a poi realizzarlo nella realtà. Ecco, l'invito è all'immaginazione. La scena è bellissima, quella dei bambini che immaginano che cosa fare, fantasticano. Oggi l'abbiamo un po' perso, brigante, chiedo anche a te l'immaginazione. Penso che di fantasia ne sia rimasta proprio poca. Una volta c'erano le favole, c'erano gli racconti dei nonni, c'erano altre cose che oggi si sono perse di vista per cose molto più materiali e anche forse meno importanti. La rivoluzione ambientale che volete portare avanti anche con questo bel albero di ulivo che abbiamo qui nella location del Madai. Questo ulivo dove lo porterete e quando? Allora, il 21 di novembre c'è la festa dell'albero. La festa dell'albero è una manifestazione a livello nazionale che vuole porre l'attenzione sul rispetto della natura e delle sue creature, le piante oltre che gli animali. Praticamente quest'anno, come già abbiamo fatto anche l'anno scorso, faremo questa giornata. Praticamente porteremo una piantina simbolo alle scuole di tutta la Valle del Sabato, perché noi operiamo più o meno in questa zona. e le porteremo alle amministrazioni della Valle del Sabato. Gli la regaleremo. Gli la regaleremo, esattamente, perché noi regaliamo tutto. E le porteremo alle aziende. Praticamente, per quale motivo? Le scuole perché devono avere... A parte che i bambini piace proprio la manifestazione, perché poi la completano con qualcosa che fanno loro, con le insegnanti e con i presidi. Alle amministrazioni, perché ci sono anche tante amministrazioni nuove, con ragazzi che veramente hanno l'ambiente nel cuore, tipo Galdo a Prato-la-Serra, a Prata, tipo Moschella da Tripalda, la nuova amministrazione di Prato-la-Serra che è la continuazione di quella precedente. Insomma, i comuni che vogliono aderire possono, nell'ambito di questa manifestazione... Anche se sono cose che devono fare loro, noi glielo apportiamo. E poi in più abbiamo aggiunte le aziende. C'è un regolamento dell'Asia di Avellino che dice che il 10% della superficie aziendale dovrebbe essere a verde. In tutte le aziende. In tutte le aziende. E nella maggior parte non c'è un albero neanche a cercarlo con l'inlanternino. Quindi, simbolicamente, gliene daremo uno con la speranza che... Ecco, il tema è importante. Io intanto saluto il nostro Ottavio che ci starà seguendo da casa perché io so che lui ha in serbo uno scoop, ma comunque un'inchiesta giornalistica sul tema degli alberi che farà discutere nei prossimi giorni ad Avellino come sono stati trattati, come sono stati o non trattati. Ne parlerà Ottavio nei prossimi giorni. Salutiamo anche i tre compari Meteopeppo, salutiamo quanti ci seguono. Anna, volevi aggiungere qualcosa sul tema degli alberi, in particolare delle aziende che dovrebbero in qualche modo guardare anche al verde. Allora, per quanto riguarda la nostra associazione, quindi anche Briganti Tirpigna, il nostro è un messaggio che vogliamo dare. Un albero è simbolico, ma il messaggio è la sensibilizzazione all'ambiente che vogliamo dare. Quindi le aziende devono incominciare un cammino di tutela dell'ambiente. Anche per quanto riguarda la scuola, la scuola già fa un percorso informativo. Quindi il nostro albero è solo la ciliegina sulla torta, perché i nostri bambini sono già ben informati sull'ambientale, i problemi ambientali. Allora, andiamo a chiudere con le previsioni del nostro colonnello. Colonnello, allora, andiamo... Ci hai già anticipato, con la bacchetta però, senza bacchetta non vengono. Rischiamo di sbagliare. Eccola qui, la bacchetta del nostro Meteopeppo. Meteopeppo è prima di V e è la nostra. Senti, io ho un po' di raffreddure, ma tu una cura per il raffreddure ce l'hai? Ce l'ho, te l'ho dico da voi. Ah, non si può dire in diretta. Ah, va bene, ok. È un segreto, è un segreto, è un segreto. Funziona? Sì. Quando riguarda il tempo, oggi si avranno nubi froci. Nubi froci e venti forti da sud, tendendo a rotazione a nord-ovest, da 40-70 euro. Ah, quindi le nuvole si moltiplicheranno, mi stai dicendo? Però domani è poco nuoloso, ma senza pioce. Ecco, la signora Maria domani può fare i panni, quindi. Può fare i panni, può fare la lavatrice. Ok, intanto salutiamo anche quanti stanno venendo questa mattina a fare colazione qui al Madai, tra un caffè e l'altro, un sorriso. Antonella, io tra poco devo parlare di politica, perché l'ho detto in apertura, voglio stilare un elenco dei papabili possibili candidati alla carica di sindaco del comune di Avellino. Secondo te, dammi un numero, quanti ce ne sono potenziali? Moltissimi. Moltissimi, quindi cinque. Io penso anche di più. Dieci. Tra quelli che, diciamo, sono papabili e quelli che pensano di esserlo. Venti. Secondo me sì. Allora, stamattina l'impegno è a fare venti nomi di candidati alla carica di sindaco di Avellino, dopo li mettiamo nero su bianco. Loro pure stanno immaginando come vincere la campagna elettorale. Senz'altro. A proposito dell'immaginazione mi è venuto in mente, e a proposito di alberi, mi è venuto in mente il famoso episodio di Newton, che stava sotto l'albero, gli cade la mela in tessa e lui collega il fenomeno e quindi formula la legge di gravità. Allora, se Newton fosse stato impegnato, non so, col tablet, o parlava al cellulare, o stava ossessivamente pensando a qualcosa che lo preoccupava, probabilmente non avrebbe fatto questo collegamento. Quindi liberare la mente, per esempio con la meditazione, ma non solo, anche solo facendo una passeggiata nel verde, oppure togliendoci dalle nostre attività quotidiane, è sicuramente utile. Poi quando noi immaginiamo, proviamo delle emozioni, provando delle emozioni accadono delle cose anche nel corpo, perché un'emozione piacevole dà un tipo di reazione chimica, e un'emozione spiacevole, la paura per esempio, ne dà un'altra. Allora, visto che noi possiamo influenzare il corpo anche in questo modo, quindi lavoriamo, usiamo l'immaginazione a nostro vantaggio. Immaginando il bello. Assolutamente, il bello, le emozioni belle, evocando ricordi piacevoli. Quindi facciamo un po' di pulizia da tanti pensieri negativi che possono affliggerci, e diamo spazio a questi pensieri più belli, e creiamo lo spazio per farci venire delle idee. Chiacchiere e caffè, mi è venuta un'idea. Ho bisogno di tè e chiacchiere stamattina. Un tè caldo perché altrimenti con questa voce non riesco ad andare avanti. La chiedo gentilmente, in diretta, se è possibile. Buongiorno, è possibile avere un tè caldo? Grazie, grazie. C'è un tè caldo di zenzero, perché c'è anche il raffreddore, quindi lo zenzero asciuga i muchi, questo è un trucchetto di medicina ayurvedica, quindi adesso ti sane allo zenzero e magari qualche giorno evita latte e derivati, perché fanno venire i muchi. Ecco, che cosa significa avere un life coach in diretta la mattina, con la trasmissione Chiacchiere e Caffè? Grazie Antonella. Tonino, allora questa rivoluzione ambientale riuscirà mai in Irpinia? Ma la rivoluzione ambientale io la vedo difficile, perché si pensa prima alla rivoluzione dei propri portafogli. Ah, vabbè. Quindi la rivoluzione economica non quasi mai va d'accordo con l'ambiente, anche se le due cose, se funzionano insieme, possono dare grandi risultati. Basta vedere i paesi del nord d'Europa, tipo Svezia e Danimarca, dove praticamente l'ambiente diventa la prima risorsa di economia per una nazione, invece da noi, la prima risorsa di economia per fare soldi, per fare mafia, per fare altre cose. Anche se poi ci sono delle eccellenze, lui parlava di un sindaco, parlavamo di sindaci, io voglio segnalare un paesino che forse pochi conoscono, c'è un paesino che ha 300-400 abitanti in provincia di Avellino, si chiama Torrioni. È uno dei più piccoli della provincia di Avellino, anche lì quando si vota però 3-4-5 liste, vabbè. Sono quelle cose folcloristiche di paesi, chi la fa d'appoggio, chi la fa per fare i numeri. Però voglio segnalare una cosa, perché non sapevano neanche che esistesse, in questo paesino l'amministrazione, una buona amministrazione, è stata capace di portare avanti un progetto di villaggio ecologico. Praticamente in questo paese una montagna di 5 ettari è stata sistemata con 20 villette in legno, con un bar, un ristorante, un maneggio, un campo... Un villaggio, un vero e proprio. E si cercherà di fare in questo posto del turismo ecologico, del turismo irpino, perché c'è un altro irpino, non quello dell'aceno, del Terminio, dove arriva il napoletano e fa il picnic in mezzo alla strada, ma in un posto attrezzato, eccetera. E questa è una bella notizia da segnalare, speriamo che possa dare i suoi frutti. Ho avuto l'onore di avere la gestione di questo posto, e questo per dire che anche i sindaci delle città grandi devono prendere a volte esempio dei sindaci delle piccole comunità, che riescono a fare delle belle cose. E speriamo che ci sia un sindaco così illuminato anche ad Avellino. Non posso fare un nome, perché io onestamente... No, li faccio io i nomi, i nomi li faccio io. Allora, cominciamo. Il sindaco Foti, benché non ha già detto che vuole che finisca e stop, non ne vuol sapere più, secondo me sarà in campo. Paolo Foti. Velocemente, mi vengono in mente così, senza un ordine, senza una valenza, è un gioco che stiamo facendo, Luca Cipriano, Giovanni D'Ercole, Pino Rosato, Pino Galasso, ma sì, mettiamo anche Pino Galasso, e ancora, abbiamo detto che dobbiamo arrivare a 20, quindi ce ne vuole. Enzo Ambrosone, Enzo Venezia, ancora... Viene in mente qualcuno? Siamo a 8, dobbiamo arrivare a 20, Antonella. È lunga? Anzalone. Ah, Luigi Anzalone ha già prenotato, grazie ai colleghi, per l'assistenza e quindi siamo a 9. Come vedete c'è ancora spazio... Io vorrei come sindaco il mio direttore Generoso Picone. Ah, ecco, quindi peschiamo anche nella società civile, quindi Generoso Picone, direttore del mattino, e siamo a 10. Nel frattempo Antonio, gentilissimo, ha portato anche il tè, questa mattina abbiamo fatto una rivoluzione, e quindi da chiacchiere e caffè siamo passati a chiacchiere e tè, le condizioni fisiche ce lo chiedevano, ce lo imponevano, siamo arrivati a 10, magari gli altri 10, promesso fino al termine della trasmissione li facciamo, perché c'è ancora spazio. Antonella, vogliamo... Maria Rusolo, Giovanni Bove, giungo Francesco Todisco, Giancarlo Giordano, Nadia Arace, e siamo arrivati a 15, quindi... Nessuno nuovo per adesso. questo è un tema, questo è un tema perché a volte la politica non riesce a rigenerarsi, a trovare nuove energie. Io più che dare un nome vorrei dire più o meno le caratteristiche che io come cittadino voglio da un sindaco. Vorrei che tenesse un po' più di polso, quindi si imponesse, quindi facesse in modo che tutti i suoi, diciamo, dipendenti, tra virgolette, facciano il loro dovere, e quindi controlli che sia un po' con i cittadini, sia più presente nella realtà dei cittadini, e quindi si rende conto dei problemi della città. Una domanda, a Borgo Ferrovia abbiamo parlato a lungo, in passato anche dell'isochimica, che cosa dovrà farne di quell'area, ecco, la rivoluzione, la futura amministrazione, qualunque essa sia, dell'area dell'ex isochimica? Allora, io come cittadino, non ho neanche parlato con l'associazione, però io come cittadino avrei voluto che si costruisse un edificio, dove sarebbe la sede di tutte le associazioni di Avellino, ma quelle associazioni, ambientalista e no, quelle associazioni che si impegnano sul territorio, infatti la mia idea è quella di prendere un sindaco che viene dall'associazionismo, perché? Perché dalle associazioni si vedono le persone che vogliono fare qualcosa, senza avere niente in cambio, perché la rivoluzione parte dalle associazioni. E questo è il messaggio di Anna, ha indirizzato anche, immagino, ai partiti, Peppino, tutto ok? Un po' di te? Antonella, noi siamo quasi in chiusura della nostra trasmissione, vogliamo intanto salutare ancora una volta e augurare una buona giornata, quanti di Avellino? Prima di chiudere, devo fare una battita alla redazione. Ecco, ok, allora ce la riserviamo per il finale, ce la riserviamo per il finale. Appuntamenti di questo fine settimana, qualche consiglio, qualche chicca? Allora, come sempre, a rispetto di quanto dicono, non è vero che ad Avellino non si fa niente, a Avellino c'è tante cose, e anzi sarebbe auspicabile che molte più persone partecipassero a vari appuntamenti culturali, musicali, eccetera. Allora, questa settimana in particolare non abbiamo il jazz perché la contessa e senza tempo riposano, tra virgolette, rispetto agli orogrammi, però abbiamo questa sera un bellissimo concerto al Cimarosa dal titolo Folklore in musica con musica di Grieg, di Borodin, quindi ve lo raccomando assolutamente nell'auditorium. Poi al venerdì, venerdì abbiamo questo appuntamento importante, segnatelo, Giorgio Ciccarelli, già negli After Hours, il gruppo di Manuel Agnelli che i più conosceranno per X Factor, al Black House Blues, venerdì sera. Sabato c'è una bella doppietta, diciamo, al Black House Blues con i Magdalena Tool Band, una band che viene dalla Polonia, e invece al Tilt c'è Vinyl Jumpy, quindi, diciamo, veramente un weekend molto rock'n'roll, molto rivoluzionario. C'è da fare, c'è da fare. Io intanto voglio ringraziare ancora una volta qui la location del Madai che ci ha accolto, tutte le mattine ci accoglie, chiacchiere e caffè con il Sorriso, a partire dalle 7 a un quarto, domani ci sarà Ottavio e poi ci saranno i nostri colleghi, Anna Guerriero, Leonardo Davenia, gireranno con musica, ospiti e con il Sorriso. Questa provincia ha bisogno di Sorriso, anche il Sorriso di Tonino D'Ambrosio, io lo ricordo, è un passato anche nelle vesti di Frattonino, ecco, dove ha posato il saio. Il saio l'ho posato nell'armadio perché, diciamo che, con la vecchiaia si diventa più saggi, quindi, perciò sono diventato briganti, quindi immagina il cambiamento, la rivoluzione che c'è stata. E praticamente è stato un bel periodo perché corrispondeva a un mio impegno nel commercio che ho fatto per 35 anni, anche con grandi successi. Ora preferisco fare l'ambientalista, preferisco dedicarmi anche a questo nuovo progetto che partirà, spero, nel periodo natalizio con la prima volta in Irpinia i mercati di Natale, il villaggio di Babbo Natale, eccetera, eccetera, nella nuova location. Ecco, perché gli alberi, oltre, abbiamo detto, la festa degli alberi, il 21, alberi che donerete alle amministrazioni, poi possono essere anche addobbati per il Natale, insomma. E' certo, l'albero natalizio è un simbolo, è un simbolo anche di luce, speriamo che questa luce illumini un poco gli amministratori, i politici e tanti altri che dovrebbero fare qualcosa per la nostra terra. Abbiamo anche un bel albero di Natale fuori, da qui al Badai, Speriamo che anche Avellino sia addobbata e non dobbiamo andare a vederci le luci a Salerno come capita ultimamente. E qui di luci e di cose belle da vedere e da fare ce ne sono. L'ultima battuta, il 21 quest'anno per caso capita anche il diciottesimo giorno del compleanno di mio figlio che fa 18 anni e praticamente il primo olivo lo donerò a lui perché spero che sia un segno di una lunga vita. E questo è un bel gesto. Intanto ci ha raggiunto qui al Madai un collega Marco Stajanò direttore di Orticalab che oggi il tema è rivoluzione Quindi tu scrivi tutti i giorni di rivoluzioni spesso mancate ne dai testimonianza o magari rivoluzioni che verranno poi abbiamo fatto quindi ti trovi che le rivoluzioni non si fanno mai in un giorno le rivoluzioni non si fanno mai in un giorno caro Di Micco grazie per l'invito grazie a te grazie a te per essere qui abbiamo fatto anche il Totosindaco stamattina mentre arrivavi abbiamo detto ma quante persone vogliono candidarsi alla carica di sindaco di Avellino è venuto fuori un numero così 20 e noi abbiamo fatto una quindicina di nomi una quindicina di nomi non l'abbiamo segnata però insomma c'era un po' di gente poi Tonino ci ha segnalato ma di questi che abbiamo detto nessuno è nuovo insomma sì ma questa è la malattia diciamo è la risultanza di una patologia con la quale purtroppo dobbiamo convivere da troppo tempo nel senso che poi siamo sempre molto bravi a criticare sempre molto bravi a parlare di disgusto di sgomento di poi però quando si torna al momento del dunque e quindi alla composizione delle liste scopriamo sempre che i due terzi dei candidati sono bene o male riconducibili sempre gli stessi mondi sempre le stesse consorterie e però puntualmente i campioni di preferenza invece che perdere preferenze le incrementano quindi diciamo che questo è un po' un problema generale del mezzogiorno d'Italia dobbiamo anche essere sinceri nel senso che da noi il voto il consenso soprattutto quando si tratta di andare a votare per le amministrative si costruisce più sul rapporto personale più sull'incrocio di esigenza che purtroppo per realtà come queste in un momento come questo molto spesso sono anche molto misere cioè si riesce a costruire e a conquistare un voto anche su una multa da pagare o su cose molto più diciamo molto meno nobili ecco dovremmo aprire un'altra trasmissione ma purtroppo il tempo è tiranno siamo in chiusura di questa trasmissione rivoluzione in sicilia c'è stata oppure no come l'hai visto non ci sarebbe stata la rivoluzione in sicilia nemmeno se avessero vinto i 5 stelle nel senso che cosa è la rivoluzione se la rivoluzione è semplicemente l'obiettivo di come dire far saltare il tavolo e allora probabilmente se avessero vinto i 5 stelle stamattina staremmo discutendo di una rivoluzione così come poi abbiamo discusso di una rivoluzione un anno fa quando i 5 stelle hanno vinto a Roma se oggi voi andate a Roma siete a livello di una diciamo capitale medio orientale o sud americana ma certamente non della capitale d'Italia e di Roma che ha avuto un mondo insomma no lo stesso discorso vale per la Sicilia rivince il centro-destra la vera rivoluzione sta nel fatto è una rivoluzione al contrario sta nel fatto che in Sicilia è andata a votare il 45% dell'elettorato quindi significa che la maggioranza degli elettori attivi in Sicilia hanno ritenuto di non andare a votare questa è una rivoluzione che è anche una rivoluzione estremamente pericolosa perché mina alle fondamenta la tenuta dello Stato di diritto e della democrazia rappresentativa quando in una istituzione il governo di una istituzione importante come quella appunto del governo siciliano cioè di una regione non solo molto grande ma a statuto speciale che ha un significato molto particolare per la vita del nostro paese è rappresentata da individui che sono stati votati complessivamente da meno della metà del popolo siciliano individualmente molto probabilmente da porzioni estremamente residuali di popolo siciliano significa che probabilmente c'è un distacco tra la realtà della gente come noi che la mattina si alza il problema di capire come portare magari il piatto a tavola piuttosto che costruire un futuro per i propri figli e gli apparati della politica che è siderale dire che il Movimento 5 Stelle non sia un partito perché si vogliono continuare a chiamare movimento dire che nel Movimento 5 Stelle non ci siano gli apparati è un'assurdità perché quello è un movimento strutturato su correnti su una lotta anche interna molto violenta tra correnti già ne abbiamo avuto diciamo prova dopodiché sarei il primo ad essere molto lieto se in questo paese nascesse una forza capace di sovvertire le regole sovvertire gli equilibri non mi pare lo dico con tutta l'umiltà del mondo che da Avellino a Catania i riferimenti del Movimento 5 Stelle abbiano cultura politica cultura istituzionale e capacità di governo delle cose la demagogia la protesta è una cosa governare la complessità è tutt'altra cosa e su quel terreno poi finisce sempre che emergono i valori veri Marco grazie per averci parlato di rivoluzione in questa che è stata la puntata dedicata alla rivoluzione cento anni fa quella bolcevica un biscottino te lo posso offrire? grazie anche se sto a dire eh no va bene Antonella un biscottino grazie noi chiudiamo in dolcezza questa mattinata con Antonio se dai anche ad Anna e io chiudo con Meteo Pep eccoci qua mi deve lasciare un po' il microfono eccolo mi dica mi dica posso andare a cano no ciao Ottavio guarda questo sono 40 anni 40 anni che sono in tv sono 40 anni l'obiettino non è mai risposto a me ciao salutiamo anche il nostro Norberto che naturalmente è il protagonista insieme a tanti colleghi delle nostre trasmissioni e anche dei blob dei fuori onda che poi il nostro Alfonso Tarantino mette nel blob che girano e che diventano tormentoni il tormentone di quest'anno invece è guarda guarda un po' fuori guarda un po' fuori stamattina siamo arrivati con la pioggia adesso invece invece adesso peggioro peggioro io vedo una sfera di sole però però si vede un po' però oggi nubi froci e temporoni allora non dobbiamo cantare non dobbiamo cantare sotto il sole ma dobbiamo cantare scende la pioggia ma che fa ciao grazie a tutti grazie per averci seguito a domani 7 e un quarto chiacchiere e caffè grazie a tutti 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 grazie a tutti